Benvenuti a tutti a come inizio l'undicesima edizione dell'europeo per squadre di club la prima partita dell'andata del nostro girone sarà contro il Manchester City partita inedita, che si dica quel che si vuole, mai successo un Manchester City frosinone però andiamo a giocarci questa gara e speriamo di non perdere andiamo alla partita andiamo a vederci la nostra formazione che abbiamo chiaramente già fatto e già messo a posto volevo vedere se mi faceva salvare però direi di non toccare quella del miluo lasciamo stare le slot andiamo a vederci direi che così potrebbe andare bene quella del City forse un po' più chiara potremmo giocarcela così ma tanto ragazzi il girone è veramente proibitivo è sulla carta proviamoci dai andiamo in campo vediamo quello che riusciamo a fare ma signori belli sarà veramente dura poter confrontarci contro una forza dei campionati europei di club di questo tipo qua come il City quindi punteranno tutti andare avanti poco ma sicuro ma noi ci proviamo ci proviamo a fare bene ci proviamo arrivare avanti e poi si vedrà ok dai andiamo in campo Holland ha ufficialmente inizio undicesima edizione dell'Europeo per club Bernardo Silva dobbiamo giocare d'astuzia non lasciare troppi spazi attenzione a Grealish pallone viene avanzato ancora per Grealish tiene lì la palla attenzione al cross viene poi anticipato attivamente ma ottengono un fallo direi che forse secondo me è un po' esagerato ecco Colle al centro dell'aria che conosco molto bene pallone messo in mezzo Romagnoni Holland e poi la deviazione c'è anche un po' fallo se vogliamo secondo me andiamo a vedere no niente meno male c'è andata bene Boccoli, Lirola io li conosco li ho avuti in una master league De Bruyne dal calcio d'angolo c'è Genner che va ad allontanare Gioao Calsello la palla ancora per Gioao Calsello prova ancora arrivare in mezzo fermato ultimamente Boccoli remake Frosinone pallone appoggiato a Rainer il francese avrà il compito di guidare l'attacco da trequartista Boccoli Calage può avanzare Calage l'appoggio verso Mazzitelli che si è comportato bene nel preliminare la palla ancora a Lirola pallone appoggiato ancora il nostro attaccante che dirà poi riesce il City bisogna chiudere i rifornimenti in questa maniera a Holland primo pericolo di questo City ma direi tutti quanti veramente forti pallone ancora Garitano 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 la tiene prova a girare palla ancora da questa parte c'è Romagnoli che la mette bisogna giocare così non bisogna avere paura e bisogna giocare in questa maniera qua Romagnoli la palla ancora proprio a Romagnoli di ritorno verso Rainer l'appoggio corto per Rodin parte il tiro pericoloso il Frosimone molto bene molto bene questi ragazzi che sicuramente non sono dell'altezza di De Bruyne Cancelo Ederson però insomma la porte nazionale francese Bernardo Silva nazionale portoghese Rodri il pallone da questa parte attenzione in anticipo di Burabia Burabia la palla in mezzo data male Bernardo Silva che occasione buttata ancora Javier Ramirez Bernardo Silva deve andare a chiudere Mazzitelli lo fa bene su Grealish e poi gira bene palla l'appoggio adesso a Kalajan Koukoli bisogna giocare via d'astuzia Maglione da questa parte per Rainer Rainer ancora l'appoggio in avanti per Garitano 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 c'è un po' fallo qui De Bruyne Greenish Cancelo che io avevo in quello schifo di football online Cancelo ancora ormai sono mesi che non ci giochiamo più la palla ancora in mezzo attenzione De Bruyne De Bruyne ancora tutti i rimpalli a favore del City la palla in mezzo esce il nostro portiere e Burabia non lo vedo tanto scattoso però riesce a conquistare palla vediamo come ne usciamo bravissimo Romagnoli da tenerla calma contro queste squadre poi però qui ci perdiamo in queste finezze Lirola Lirola non buttarla non buttarla via meno palle si regala al City meglio è Ocoli pallone in air la palla in avanti adesso ancora il nostro attaccante Garitano però ha difficoltà a girarsi la palla adesso subito un intervento qui per spezzare un po' ritmo del City e scatta subito il cartellino giallo incredibile come non si possa fare un fallo che subito si viene ammonito è incredibile vabbè sempre 0-0 stiamo giocando non male stiamo giocando con molta attenzione De Bruyne va a lanciare in avanti De Bruyne il colpo di testa di Reiner poi Roden ancora Frosinone che adesso manovra con Lirola pallone a Mazzitelli centralmente a Ruden ancora Roden pallone a Burabia sale Romagnoli la palla gestita bene stavolta Garitano ancora e niente qui hanno la fortuna hanno la sfortuna la fortuna di rimpare attenzione Alcoli Alcoli deve uscire il portiere bravissimo fatale bravissimo cala già subito di prima attenzione no 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 dobbiamo stare più concentrati non così attenzione la palla in mezzo parte il tiro deviato mamma mia ragazzi non facciamo ste cazzate di prima che ne siamo non siamo in grado di giocare di prima non abbiamo giocatori da giocare di prima contro sta squadra lasciamo stare calcio d'angolo De Bruyne pallone messo in mezzo colpo di testa fuori mamma mia quanti pericoli però ci sta davanti abbiamo una delle squadre più forti d'Europa Ocoli lanci in avanti arriva Romagnoli gestisce bene adesso la palla Garitano pallone in mezzo Reiner tocco l'indietro Garitano a dalla in avanti perché la data in mezzo c'era che dir a vedere gioca a sera la palla in profondità vengono attaccati subito i giocatori e c'è calcio di punizione c'è calcio di punizione fallo su De Bruyne c'è questo calcio di punizione per ancora proprio De Bruyne che va a metterla lì la palla rimane in mezzo quanto è il tiro la parata dei frattali primo tiro un po' pericoloso nello specchio della porta da parte del Manchester City e la gran parata di frattali attenzione c'è subito De Bruyne che viene a cercare di creare pericoli e noi andiamo a togliergliela andiamo a togliergliela benissimo con Bowen il pallone adesso in mezzo Bowen no ma cosa fai si è lanciato da solo madonna dio vabbè lasciamo perdere ma che cazzo di giocatori madonna bernardo Silva pallone in avanti holland holland attenzione Merez ma non è fallo ma non è fallo ha preso la palla non è fallo attenzione ma via bravo Kohli andiamo e finisce il primo tempo non era fallo assolutamente quello allora due cambi sicuramente da fare uno è questo che veramente è qualcosa di scandaloso da vedere però non lo so se mettere questo o questo Molivieri è un po' più veloce mettiamo lui e poi anche ragazzi questo qui davvero Reiner non può giocare punta andiamo a cambiarla con Kai George mettiamo lui e si va in campo così calcio di inizio affidato al Frosinone che sta facendo la sua partita Kalajan sta mettendo in difficoltà un pochettino il City con questo possesso palla stile un po' Barcellona Olivieri vedete che cerchiamo sempre di ragionare Pallone a Romagnoli allora si torna da lui bisogna cercare gli spazi Reiner fa partire questo tiro chiaramente la calamita dice che va sui piedi di quello del City De Bruyne De Bruyne attaccato attenzione attenzione il pallone adesso da questa parte subito vengono attaccati però più decisione Bernardo Silva eccoli qua Hollande mamma mia metti da giù frattali metti da giù il pallone adesso da questa parte dato per Occoli il pallone è toccato in mezzo c'è Olivieri palla dietro Reiner Bravissimo subito da questa parte no invece si è stato buono il tocco qui ma poi ci siamo letteralmente persi in un bicchiere d'acqua la palla ancora in avanti attenzione Hollande parte il tiro la parata ancora di frattali niente da fare ma ci hanno altri giocatori dai vuoi mica mettere il trosimone con Manchester City cioè come mettere il Torino con il Barcellona cioè Real Madrid lascia perdere dai lasciamo perdere non diciamo cazzate De Bruyne va a metterla in mezzo attenzione la deviazione prendigliela e c'è calcio di condizione niente da fare come li tocchi come li tocchi come li tocchi e fallo questo è il fallo però non lo so attenzione amarezza no mani ex Roma De Bruyne De Bruyne il tiro a scembre non è dei più pericolosi allora frattali adesso dobbiamo andarcelo a giocare con tutta onestà possiamo fargli male Olivieri bravissimo la può girare eh niente viene subito chiuso il nostro attaccante ma noi no minchia Ocoli che cazzo fai calma calma palla adesso a Rodesto Gicondo con una concentrazione che voi non avete neanche la più palida idea la palla Lirola Lirola lo scambio qui sulla fascia ancora Lirola la mette in mezzo mamma mia Mazzitelli tiene lì il pallone non c'è spazio allora possiamo girarci bene così eh niente non c'è il cross la palla in mezzo ridata c'è pronto il cross di Lirola che va a crossare adesso il pallone wow la traversa la traversa la traversa parte questo tiro la palla a Flori mamma mia la traversa ci dice di no incredibile sarebbe stato un grandissimo gol mamma mia che sfiga che sfiga che sfiga dai che gli abbiamo messo un po' paura dai Ederson mamma mia che sfiga Ruben Dias gioca Cancelo una palla sbagliata da Cancelo e subito ridata in avanti il pallone c'è il buco che dirà eh no 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 non è fallo però lo facciamo anche noi perché siamo scoperti mamma mia che dirà che azione attenzione Marez Marez che può avanzare il tocco ancora giocano bene giocano bene sono forti niente da fare Holland bello questo allontanamento mi piace e poi tocco ancora in avanti minchia ma che culo di merda no palla ancora Cancelo Cancelo dribbling da rientrare eh la palla in mezzo attenzione Holland via mamma mia via via contropiede 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 l'appoggio bello qua l'appoggio bello qua la palla in mezzo madonna che dirà madonna santa sempre che trova le gambe loro porco dio ancora Holland messo giù eh dobbiamo giocare così eh minchia ma che sfiga cazzo però che sfiga porca pittana potevamo anche vincere secondo me vado bene lo 0-0 speriamo che duri pallone in mezzo ancora non usciamo bene ne usciamo bene ancora andiamo bene olivieri olivieri la palla facciamo salire così il centrocampo che vi apriamo come le mene come le mene no ma perché sbagliamo sti filtranti ma per quale motivo dobbiamo sbagliare i filtranti perché non c'è i giocatori perché fanno schifo De Bruyne attenzione la palla ribattuta passiamoci un po' andiamo a pressarli subito non facciamone eh ciao ciao walker walker anche questo ce l'avevo sui football che è una merda la palla in avanti andiamo Rainer ancora al tocco adesso che dirà che dirà la palla mazzitale non c'è nessuno in mezzo rallenta rallenta mazz rallenta 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 la palla in mezzo che dirà mamma mia che occasione che occasione grande mazzitelli madonna che dirà ma che sfida ma che sfida che sfida e allora la porta 0 a 0 tempo scaduto ma meritavamo di vincere incredibile in siti abbastanza inesistente 0 a 0 mamma mia in questa prima uscita di questo bel frosinone che si è comportato bene contro una delle squadre più forti e titolate d'Europa andiamo a vedere i risultati di questa prima giornata CSKA e Feyenoord 0 a 0 inizia a battere le Havre 1 a 0 l'Inter cade in casa con l'Ajax 1 a 0 vince il Paris Saint Germain 2 a 0 con l'Albertis vince lo United 3 a 1 nella partita Inghilterra-Scozia Lipsia batte il Marsiglia 1 a 0 Trasbors cade con l'Istanbul 2 a 0 City Frosinone 0 a 0 questi sono i primi 4 gironi gli altri 4 gironi sono Sporting di Lisbona 3 a 1 cade col Bayern Monaco Besittas che stendere a Madrid 3 a 1 Granada Napoli 0 a 4 Zenit Chelsea 1 a 1 Atletico Madrid 3 a 4 2 la Juve cade in casa 4 a 0 con Girona incredibile Sporting Braga 4 a 0 Gruppo 5 Nizza 3 punti Fennel CSKA 1 punto Gruppo 6 PSG 3 punti con l'AIA 0 Inter e Real e Real Betis Manchester United e Lipsia 3 punti Marsiglia Ranger 0 e l'ultimo girone 3 punti l'Istanbul 1 punti 1 punti frosinone Manchester City 0 per il Transports ragazzi ci vediamo domani mattina con la partita in casa contro il Trabz lo sport ciao a tutti